Ha preso il via da oggi e durerà fino al 1 luglio la campagna di prevenzione SOS Melanoma che coinvolgerà gli spazi care dell'azienda sanitaria locale di Salerno disseminati su tutta la provincia. Si tratta di spazi dove il paziente non viene solo accolto ma grazie ad una rete ed un sistema coordinato, oltre ad essere sottoposto ad indagini, riceve anche supporto psicologico e sanitario lungo tutto l'iter diagnostico per ricevere le informazioni relative alla sua patologia e le possibilità terapeutiche. Sul sito dell'Asl di Salerno è possibile ricevere tutte le informazioni e i numeri di telefono per prenotare lo screening in base al distretto sanitario di appartenenza. Il melanoma è un tumore particolarmente aggressivo ma che può essere sconfitto se scoperto in tempo, come è stato spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione che si inserisce anche in una serie di attività mirate dell'Asl per far ripartire la prevenzione fermata dai due anni di Covid. Allora noi abbiamo messo a disposizione un punto centrale di coordinamento per fare le prenotazioni in tutti i distretti. Con un grosso sforzo siamo riusciti a far partire anche in alcuni distretti che non avevano tutte le possibilità di altri un po' più forniti, diciamo. Per cui le persone si raccoglie la richiesta, il numero di telefono della persona e si dà l'orario da scegliere tra quelli che noi abbiamo a disposizione. Di pochi giorni fa l'allarme è lanciato proprio dal presidente della regione Campania che ha detto che in due anni si è fermata, la prevenzione occorre dare un'accelerata su questo fronte perché poi i danni si pagheranno. Questa campagna dell'Asl potremmo dire che rientra in questo ambito? Sicuramente in questi due anni la prevenzione più che fermata si è orientata su altro. Adesso riprende a largo raggio a partire dalla prevenzione oncologica che è l'altro grande strumento di sanità pubblica su cui intervento precoce, fatto in tempo, fatto nei tempi giusti, ci permette di rimodulare e di riorganizzare anche i sistemi sanitari. Ci permette di evitare gravi, grandi corse della speranza altrove perché le diagnosi precoci ci permettono di fare interventi più gestibili anche sul nostro territorio. Lei ha sottolineato proprio come con il melanoma sia importante prevenire perché è un tumore aggressivo che però se preso in tempo può essere risolto. Finalmente sta diventando senso comune l'idea che i tumori non sono una maledizione, è una delle tante malattie che se si riesce a fare diagnosi precoce, se si riesce a fare diagnosi in anticipo è perfettamente curabile, si può avere una perfetta sopravvivenza. I segnali che ci vengono dai tumori della sfera femminile, che sono quelli che da tempo sono stati sottoposti a queste indagini, Cervice e Mammella che ha portato a un abbassamento importante dell'incidenza della gravità di questa malattia e vanno tutti in questa direzione. Su questa falsariga anche il tumore della pelle, il melanoma in particolare, è uno di quei tumori che diagnosticato in tempo può essere gestito come una normale, tra virgolette, malattia. Grazie a tutti.